Come stai, come stai? Allora, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Dimmi un po', ma la testa d'agnello, come si mangia? Si mangia tanto bene, pure buona. Noi avevamo sempre mangiato, io ho 44 anni da macellaia. Sì, sì. Mi madre 60, ma che ce fanno le vanno? Che cosa? La devono fare finita, la devono fare tutti quanti. Che gli devo dire ai vegani, Anna? Ma che che devo dire ai vegani? Ognuno è libero di fare... Se uno si può, ha visto quelli che si vanno ammazzati, si ammazzano, ma che bonno, che bonno. Ma guarda, sono parole sagge, signora Anna, sono parole molto sagge. Ma scusa, non basta, eh. Hanno rotto, si può dire che hanno rotto i coglioni, detto proprio in romanesco, detto così. Come no? Si può dire tranquillamente. Senti, tu la testina di Agnale... Tutta una moda, tutta una moda. Chi sei, parente, tu? No, io sono Cruciani, io sono Cruciani. Io sono parente, sono... Ah, Cruciani, ciao Cruciani, c'è pure parente, mi sa, mi marito. Beh, non lo so, tu marito si chiama Cruciani? Eh sì, viene da Rieti. Da Rieti, beh, io sono un po' etrusco di quella zona là. È uno scandalo, beh.